Ciao a tutti raga e bentornati su Plurix Channel in un nuovo gameplay di Age of Empires 3 Stiamo giocando alla campagna, siamo al terzo atto, stiamo per andare in Florida Wow! Ma magari ci andassimo per me, magari ci andassimo nella realtà Comunque vediamo un po' se possiamo scegliere qualche carta interessante Prima che mi si distruggano le orecchie definitivamente Allora, intanto il manifatturiero, forse i mercenari potrebbero essere interessanti Sì, dai Giochiamo Allora, dopo aver ritrovato il suo prozio, oddio stavo leggendo Porzio Dopo aver ritrovato il suo prozio Kanyenke O Kanyenke, come lei l'ha pronunciato Il maggiore Cooper Niente, mi sono perso Dicevo Stavo un po' rincoglionito oggi Dopo aver ritrovato il suo prozio Kanyenke, il maggiore Cooper Amelia è decisa a mettersi sulle tracce di Beaumont Per recuperare loro degli spagnoli perduto dai suoi antenati Non è che era stato proprio perso tutti gli effetti Comunque vabbè Grazie 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 vedremo se non ce l'avrà questo bisogno di eroismo di anticattivismo non vedi nessun lago della luce allora ho messo un attimo in pausa vabbè che sei laia vabbè che sei tutto quello che cazzo però ma non lo vedi qua che è una forma di luna questa qua non è più nemmeno la stessa mappa perché è ovvio il luogo è lo stesso del primo atto della cosa finale del primo atto però e ne siamo partiti da qua eccoci qua c'era lo sbarco qua c'era il nostro bellissimo centro città qua c'era il cannone se vi ricordate e qui qui c'era la fonte qui c'era la fonte allora nel frattempo nei villaggi inutili passiamo non possiamo passare però facciamo tanti bei cittadini e andiamo di qua questo cos'è ora tra l'altro non c'è nessuno che sta a fare loro quindi vabbè allora andiamo di qua andiamo di qua e facciamo una tra i bu una base commerciabile ah è vero non c'è oro cazzo porca valettazza vabbè esatto eccolo mamma mia what a what a memory what a memory allora le tattiche speciali sembrano per distruggere l'infrastruttore nemico consente gli acili dentro affiato di infliggere danni oggi degli edifici va bene dove stanno attaccando ma sti maledetti non me l'ammazzate 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 oh 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 non me l'hanno ammazzata quale culo quanta vita si è rimasta mamma non amare allora facciamoci mandare un forte nel caso attaccano la colonia la colonia allora poi qua sempre questo facciamo altro cibarie facciamo un bel mulino un bel mulino allora ok e poi andiamo ad attaccare qui che è poco coperta in un'altra zona credo forte lo faccio qua che ci sta grosso modo tu fai eh non possiamo architettare sempre qui così là ok allora io direi di andare ad attaccare però forse ho fatto una cagata perché mi sa boh vabbè lo vediamo dai vediamo se effettivamente ho fatto una cazzata oppure no perché lui stava qua perché lui stava qua ok ok ce la faccio ce la faccio se ce la faccio allora abbiamo abbiamo questo bellissimo falconetto di là allora tu alla legna voi al danaro tu al cibo qua vabbè sempre altri seminole bene ma che cosa come quando vai che i cavalli arrivano prima non so se il video è un cazzo invece no ehi io mi lavo allora allora ok bene allora direi di andare di qua ok 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 ho bisogno di legna questo denaro, queste fattorie, questo è sempre denaro prendiamo questa cosa che non è mia ah no ma perché è un guardiano del teso? no, par de palla beh male non fa dai stava qua ecco appunto oh guarda che bello ok voi rimanete qua allora appunto voi rimanete qua nel frattempo io ho che cazzo stavano a fare questi? ah per il legno giustamente giustamente per il legno allora altre case altre case tu vai a raccogliere il denaro si però si però se magari me lo distruggi eh dai sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, voi tre andate qua. Poi metri qua e tu vai qua. Facciamo altri invitanti. E questo. Oh bene, sta attaccando anche il forte. Direi top. Quanto cibo? Quanto cibo? Allora, poi... Non possiamo neanche fare le... Le tenute, diciamo. Anche sta cosa è una cazzata. Comunque, va. Allora, vai alla legna. Tu vai qua. Perché non me l'avevi fatto prima? Quanto manca? Un po' ancora. Allora... Allora... Non possiamo fare i maschettieri. Inutile. Allora... 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 Maschettieri... E qualche cavallo. Non possiamo fare i cavalli. Ok. Almeno siamo a dieci, quindi. Devo fare altri invitanti. Dai che manca poco. Molto poco. Questi stanno qua a difesa. Anzi, ormai. Allora, poi... Ah, vabbè. Vai. Bravo. Sai che ti dico? Non ci mando subito lei. Se la trovo. Perché questo è un problema. E se la trovo. Allora... Vabbè. Allora... E poi... Allora... Vabbè. 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 Ho sentito un... Eh, ecco. Cancello. Vabbè. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.